Musica Aziende e banche, urgente diffondere più cultura e informazione. Un buongiorno a tutte le colleghe e a tutti i colleghi. Ma ci siamo mai chiesti qual è il vero obiettivo della Commissione europea in merito a questa rivoluzione finanziaria? Ebbene sì, l'obiettivo della Commissione europea è quello di espellere dal sistema economico europeo sia le imprese che le banche finanziariamente squilibrate, ossia incapaci, attraverso la loro gestione corrente, di produrre quella liquidità necessaria a far fronte ai propri impegni finanziari. Una sempre maggior preparazione e pianificazione diventa indispensabile per tutte le aziende e dove l'impresa o l'imprenditore, per vari motivi, non dovesse essere informato in tempo rapido, la nostra figura di affiancamento diventa sempre più indispensabile, importante e alcune volte vitale alla continuazione dell'attività produttiva. Ormai il periodo come ogni anno è arrivato. In queste settimane siamo chiamati a far consulenza in merito alle chiusure dei bilanci. Ma non dovremmo più però limitarci alle ordinarie comunicazioni inerenti all'impatto fiscale, ma infondere sempre una maggiore informazione ed una maggior cultura in campo economico-finanziario. Il nostro compito dovrà essere quello di interpretare il bilancio appena chiuso come uno strumento di comunicazione finanziaria tra banca e impresa. Sicuramente l'azienda cliente dovrà essere monitorata mensilmente attraverso i più opportuni strumenti di analisi. Quindi diventerà necessario valutare la presunta difficoltà finanziaria mediante una serie di schemi e di tabelle a volte precostituite e che dovranno essere riportate mese con mese. Insomma, una corretta gestione richiama ad una puntuale analisi di che cosa? Della centrale dei rischi, per esempio, un controllo costante e preciso dei crediti scaduti, una verifica assidua del foglio commerciale, l'andamento degli insoluti, movimentazione dei conti correnti, adeguatezza del patrimonio netto, adeguatezza dell'EBIDDA ed infine anche uno studio prospettico sulle possibili difficoltà di mercato, di produzione, di sostenibilità degli impegni finanziari. Insomma, una cultura finanziaria che dovrà essere progressivamente diffusa a tutti i nostri clienti, mediando tra loro e gli istituti di credito che diventeranno l'ora volta sempre più esigenti, con richieste di maggiori informazioni. Per questi motivi la nostra figura dovrà essere sempre predominante, attenta ed anticipare i tempi, fornendo tutto il materiale derivanti dalle nostre conoscenze in materie economiche e finanziarie, pianificando la vita produttiva e lavorativa del nostro cliente. Gli strumenti sono quelli che ormai abbiamo imparato a conoscere già da diverso tempo, tra cui il budget d'esercizio, con i relativi break even point finanziari, oppure le schede di costo per prodotto, o ancora le varie fasi di liquidità, partendo dal cash flow sulla gestione corrente, dal cash flow sulla gestione non corrente, dal cash flow operativo, da quello finanziario e dal cash flow di proprietà, ed infine il cash flow totale. Cash flow totale a fine mese per le più opportune quadrature tra le schede finanziarie, gli estratti conti ed i bilanci di verifica di periodo. In conclusione, qualunque sia lo scenario prossimo, l'imprenditore lungimirante deve attivarsi oggi per preparare la sua impresa alla rivoluzione che è già iniziata. La ricetta c'è già. Utilizzare bene gli strumenti del budgeting per individuare il break even finanziario, ossia determinare quale debba essere il fatturato minimo che l'azienda dovrà raggiungere nel corso dei prossimi 12 mesi, per poter far fronte ai già noti vincoli finanziari prospettici. Questo permetterà di controllare costantemente la gestione economica e finanziaria dell'azienda, evitando l'insorgere delle tanto tenute crisi che il sistema è chiamato ad evitare. Un caro saluto a tutte le colleghe e a tutti i colleghi e al prossimo video appuntamento. Ciao!